Si è chiuso all'Arezzo Fiere Congressi il Forum Risk Management in Sanità, un'edizione interamente online con pochissime persone in presenza, tutti i professionisti della sanità, più di 800 relatori collegati da remoto, più di 15.000 coloro che appunto hanno seguito le sessioni. Tra i temi più importanti trattati, quello della campagna vaccinale contro il Covid-19. Ma è una scommessa che stiamo vincendo, tutto in piattaforma tecnologica, tutto online, quando noi eravamo abituati a salutare migliaia e migliaia di persone, speriamo che lo sarà il prossimo anno, però i contenuti sono esaltanti. Abbiamo discusso in tante sessioni del modo come riorganizzare il sistema sanitario dall'ospedale al territorio, abbiamo parlato dando comunicazioni anche all'ultimo minuto del piano nazionale dei vaccini. Ci sono tante altre sessioni in particolare su come le tecnologie aiutano a portare la salute, la sanità, i servizi sanitari e sociali a casa delle persone. Insomma, il risultato è, sono contento e credo che da qui partiremo per inaugurare un laboratorio di pensiero, per continuare la discussione e portare alcune decisioni condivise sul tavolo delle istituzioni che contano e che decidono. Era già il suo ruolo quando era in presenza, forse nell'online, lo è stato ancora di più, quello proprio di mettere in rete tutti i professionisti della sanità. Sì, perché intanto abbiamo avuto adesioni enormi, anche ieri abbiamo avuto più di 1.400 collegamenti online, quindi alla fine noi avremo 15-16 mila interventi che ovviamente dovremo rifletterci sopra e coordinarli e tradurli in alcune proposte concrete da portare, come dicevo, nel tavolo istituzionale. Dopodiché mi auguro che il vaccino sconfigga il Covid e che il prossimo anno saremo qui in presenza perché c'è bisogno anche nel mondo della sanità di relazione, di ritrovarsi, di scambiarsi opinione e di socialità.